Oggi 19 ottobre il Tar del Veneto su ricorso della LAC ha confermato lo stop alla caccia in deroga fino al 3 novembre. Il Tribunale ha accolto la strana richiesta dell'avvocato dei cacciatori che evidentemente temono la pronuncia dei giudici. Si tratta di un'altra grande vittoria per tutti coloro che vogliono proteggere gli animali e far rispettare la direttiva Uccelli e la sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea contro la caccia in deroga in Veneto dello scorso novembre. L'allungamento dello stop alla caccia infatti garantisce agli uccelli almeno altri 17 giorni di protezione proprio nel picco del periodo migratorio. E questo addirittura grazie al temporeggiare dei cacciatori che evidentemente non sanno davvero più che pesci pigliare e proprio nel momento in cui nei nostri cieli passa il maggior numero di fringuelli e pispole. Ormai è evidente che stiamo andando verso il funerale delle deroghe sulla caccia, norme che sono in aperto contrasto con la direttiva comunitaria Uccelli e che oltre a causare lo sterminio di milioni di uccelli protetti spone l'Italia a rischio di pesanti multe economiche. Sono soddisfatto che il lavoro che sto facendo anche in Europa con le mie interrogazioni alla Commissione Europea stia dando i suoi frutti. Proprio qualche giorno fa in un incontro a Bruxelles, un rappresentante del gabinetto del Commissario Europeo dell'Ambiente, Potocnik, mi ha confermato che la Commissione Europea sta seguendo da vicino il caso della caccia in deroga in Veneto e Lombardia ed è decisa portare il procedimento fino in fondo. La Giunta Zaia deve rendersi conto dell'illegittimità della caccia in deroga e smetterla di approvare queste delibere sotto dettatura della lobby ingorda ed estremista dei cacciatori in deroga. Proprio ieri al Parlamento Europeo ho incontrato Jacques Perrin, il regista del Popolo Migratore, quello che considero il film più straordinario sul mondo degli uccelli. Ebbene, sono d'accordo con lui quando dice che il mondo sarebbe tristissimo senza i nostri amici allati. Oggi, ancora una volta, tutti gli amanti di animali possono festeggiare alla grande.